Arriva dall'Oriente e sbarca ad Arezzo l'ultima frontiera del body care, il benessere e la cura del corpo. Nel centro diretto dal dottor Massimo Iannacone, specialista in chiropratica, si può sperimentare il metodo Tui Na, un massaggio orientale che ha il beneficio di dare al corpo un benessere immediato e duraturo. È una metodica che risale a più o meno 7.000 anni fa, perché fa parte del progetto terapeutico della medicina tradizionale cinese. Il Tui Na è una branca, come l'agopuntura, la farmacopea, la fitoterapia, di quelle che poi sono le cure orientali. Si occupa del massaggio sistematico, che può essere sia curativo che preventivo, quindi in questo caso parliamo di benessere ad Arezzo. In effetti il Tui Na può spaziare in vari ambiti, poi dipende sicuramente dall'operatore, da chi opera, ma comunque il Tui Na agisce da problematiche osteoarticolari fino ad arrivare anche a problematiche viscerali. Quindi diciamo che ad ampio raggio, ma naturalmente nella location di Villa Cigna ci occupiamo di benessere preventivo, quindi non invasivo, essendo comunque una beauty farm, un luogo destinato alla cura e alla bellezza. Quindi in questo caso ci occupiamo di estetica, diciamo, prevalentemente. Il centro sorge nella ristrutturata Villa Cigna, alle porte di Arezzo, una costruzione del 1300 interamente recuperata. Il suo ruolo all'interno di questa splendida struttura qual è? Io mi occupo come responsabile sala e sono maître e sommelier e inoltre curo la parte organizzativa degli eventi culturali. Ecco, ricordiamo allora che questa struttura si candida proprio ad ospitare eventi culturali, partendo ovviamente anche dalla nostra tradizione gastronomica, no? Assolutamente sì. E in effetti tutta la nostra cucina è improntata sulle tradizioni, sugli aspetti della tradizione toscana, rivisitati naturalmente dal nostro chef in chiave innovativa. Noi ci avvaliamo dei prodotti, soprattutto del territorio, a chilometro zero, finché possiamo. Carni, per esempio, come la chianina, IGP, oppure cintasenese, DOP. Quindi facciamo molta attenzione appunto ai prodotti locali e di grande qualità. Grazie.